Cominciamo con il ricordare la storia, una bella storia. 30 novembre 1786 siamo stati il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte. Occorre continuare in modo serio, autorevole la battaglia per i diritti, contro tutte le forme di odio, anche nei nuovi moderni mezzi di comunicazione e nei social. Occorre fare massa comune per dire stop a tutte queste forme di odio che ancora colpiscono chiunque nella nostra società, lo vediamo tutti i giorni. Ma quello che mi sento di dire in particolare oggi è che ancora in un periodo delicato come quello presente però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana. E questo è un gran bel segnale, sono contento di aver dato un contributo in questo senso perché soltanto con l'unitarietà ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori possiamo davvero ripartire come Toscana.